Un tragico destino, quello di Daniele Ciampa, 35enne residente a Fontanarosa, che ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto lungo la provinciale 62 nel territorio di Sant'Angelo Allesca. Daniele era il padre del piccolo Michele, il bimbo di 9 mesi, morto lo scorso 8 agosto al Santo Bono di Napoli dopo una grave crisi respiratoria. Il dramma ora diventa abnorme, inconcepibile. La disperazione e il dolore dei genitori non si sono mai placati dopo la morte di Michelino e lo schianto di questa mattina allontana sempre più ogni possibile spiegazione razionale di fronte ad un beffardo disegno del destino. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. La golf di Daniele Ciampa, che procedeva verso Sant'Angelo Allesca, si è schiantata contro un furgone Citroen. Alla guida, Raffaele Quaglia, 35enne di Logosano, che si stava recando a Fontanarosa per la consegna del pane. L'uomo, subito trasportato all'ospedale di Ariano, ha riportato lievi ferite. Daniele, invece, è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è ora al vaio dei carabinieri della compagnia di Mirabella e Clano, che sono subito accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Grotta Minarda. La salma del 35enne è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali. La comunità di Fontanarosa è il lutto, è sotto shock. La parrocchia di San Nicola Maggiore si stringe con questo messaggio intorno alla famiglia di Daniele. Siamo vicini alla moglie Angela e alle figlie Rosa ed Eva e a tutti i suoi cari con la preghiera. Così lo stesso Daniele con il piccolo Michelino saranno sempre vicino a loro, in un modo diverso, ma non per questo meno vero. La risposta al dolore e alla sofferenza è l'amore con cui si reagisce. Parla a voce bassa il sindaco Flavio Petroccione. Il dolore è stato troppo grande. Esprimiamo solidarietà alla famiglia, dice. Siamo sgomenti di fronte ad una tragedia del genere. Non ci sono davvero parole. Saremo vicini alla famiglia, sia adesso, sia in futuro. Daniele era un ragazzo tranquillo, lo vedevo ogni giorno. Abitava accanto a mia suocera. Eravamo molto legati. La festa, in programma per domani sera nella piazza del paese, è stata annullata. Non è il primo incidente che si verifica a lungo la provinciale 62. Ampi tratti di quella strada che collega i comuni della Valle del Calore sono in pessime condizioni. Buche profonde e rattoppi vari, sempre frutto di soluzioni momentanee, costringono gli automobilisti a fare lo slalom tra i fossi. Tante le segnalazioni arrivate alla provincia da parte delle amministrazioni di Logosano e di Sant'Angelo, ma da anni non sono mai stati presi provvedimenti. L'erba ai lati della strada è così alta che limita la visibilità. C'è qualche conducente che ha deciso di farsi giustizia da solo, cercando di abbassare l'erba a colpi di bastone, in uno dei punti più critici, il cosiddetto ponte di Fontanarosa. Le segnalazioni ci sono, ma a quanto pare non bastano o forse non vengono mai prese in considerazione. I residenti sperano che dopo questa tragedia si possa correre al più presto ai ripari per evitare nuovi incidenti su questo tratto assai insidioso.